Terza lezione, sequenza to fellow groove. È composta da quattro passi. Il primo è la dispoli wave. Mani in alto eseguono un movimento ondulatorio seguito dal bacino con intenzione erotica, espressione in hot style. Secondo passo, squatation. La lingua spinge sul labbro inferiore. Gamba sinistra dietro gamba destra e gamba destra dietro gamba sinistra. Mani in modalità fonzi, si poggiano a ritmo sull'anca, espressione in torpigna style. Terzo passo, dramatic 100 celle. Movimento rotatorio delle mani con intenzione drammatica e confusa. Le gambe piantate in terra seguono il movimento. Espressione in surprised style. Quarto passo, prenestina shake con chiusura in doppio anagni sex face. Salto in avanti con gamba destra e atterraggio in movimento shake. Salto in avanti con gamba sinistra e atterraggio in movimento shake. Giro con gambe incrociate e chiusura in doppio anagni e lingua sedutiva per il sex face. Ed ora vediamo di seguito la sequenza Tuffello Groove. Grazie a tutti.